... Serata istituzionale venerdì 26 luglio per la seconda recita del Macbeth di Giuseppe Verdi. Allo sferisterio, con il sindaco di Macerata Romano Carancini e il presidente della provincia Antonio Pettinari, sono giunti 47 sindaci della provincia di Macerata in vesto ufficiale con la propria fascia tricolore. Abbiamo invitato tutti i sindaci della provincia che saranno presenti con la fascia tricolore e appunto per significare anche da un punto di vista proprio visivo oltre che nel profondo del cuore che tutta la comunità si stringe attorno non solo allo sferisterio ma attraverso lo sferisterio per condividere anche le sofferenze ma soprattutto per dire insieme possiamo farcela. Siamo veramente felici questa sera di essere qui insieme agli altri colleghi del territorio perché abbiamo la possibilità di rinsaldare sempre più una collaborazione che deve essere e deve esistere tra i vari territori. Anche lo sferisterio ha a cuore tutto il territorio della provincia. Essendo lo sferisterio una grande eccellenza della provincia, io da sindaco dico che è un onore stasera essere qui a rappresentare Sarnano e tutti i comuni della provincia in questa iniziativa che mi dicono sia anche del presidente proprio Bettinari il quale ha tutta la mia stima e il mio ringraziamento. Credo che sia importantissimo e quindi ringrazio il sindaco della città di Macerata, il presidente della provincia Antonio Bettinari per questa opportunità perché è un momento di condivisione tra tutte le istituzioni e credo in un momento come questo gli enti locali, quindi provinciali, uniti e compatti è sempre più importante e fondamentale per il nostro territorio quindi anche per affrontare le tante difficoltà. È importantissimo perché dà visibilità, perché sono i luoghi che forse sono i più terremotati dell'Alto Maceratese e noi ne abbiamo bisogno di tanta visibilità e grazie al presidente della provincia per averla organizzata perché è veramente una cosa ottima. È una serata meravigliosa, un momento di incontro tra i vari sindaci che rappresentano le comunità del nostro territorio e quindi un'occasione anche per vivere un momento di tranquillità e gustarci questo spettacolo meraviglioso in questo panorama unico. Lo Sferisterio, come sempre abbiamo sostenuto, non è un luogo di Macerata, non è un valore solo della città di Macerata, direi dell'intera regione e più che mai del territorio provinciale quindi con grande piacere soprattutto onorati alla presenza delle fasce tricolori naturalmente onoreremo questa bella serata anche con qualche bella sorpresa musicale. Al termine della messa in scena si è svolta la prima delle attese feste a tema organizzate per il secondo anno consecutivo. Macbeth, festa con le streghe, ha così animato il grande palcoscenico dello Sferisterio. Grazie a tutti.